Negli ultimi sei mesi a Caltanissetta si sono registrate dieci truffe ai danni di anziani, un fenomeno in crescita che colpisce le persone più vulnerabili. I truffatori, spacciandosi per forza dell'ordine o rappresentanti di enti pubblici, usano metodi incannevoli per ottenere denaro e beni preziosi. La Polizia di Stato sta intensificando le indagini e le attività di prevenzione, esortando gli anziani a verificare sempre l'identità dei presunti rappresentanti ufficiali e importante anche il coinvolgimento delle famiglie nel sensibilizzare gli anziani sui segnali di truffa. Per ulteriori informazioni e consigli si invita a visitare il sito della Polizia di Stato. Truffe sempre più ricorrenti, come proteggersi? Allora, la casistica delle truffe agli anziani è ampia. Le ipotesi principali sono essenzialmente due. Da un lato un finto appartenente alle forze dell'ordine o un finto dipendente di una società di servizi quali acqua, energia elettrica, rifiuti o gas che tenta di entrare con una scusa all'interno dell'abitazione della persona anziana. In secondo luogo, succede spesso che un finto avvocato preannuncia telefonicamente la necessità di pagare una somma di denaro ad un emissario che di lì a poco sopraggiungerà per risolvere un problema di salute o legale di una persona anziana. Come si possono prevenire queste truffe? Allora, i consigli per difendersi al meglio di queste truffe sono vari. Anzitutto, quando si ha il sospetto su persone che vogliono accedere all'interno della propria abitazione, contattare immediatamente il numero unico di emergenza, tenendo presente che il più delle volte gli accessi delle società di servizi presso gli appartamenti sono preannunciati mediante affissione di appositi avvisi. In secondo luogo, qualora si dovesse rendere conto di essere stati vittime di truffe, il consiglio è quello di denunciare tempestivamente l'accaduto alle forze dell'ordine, perché questo ci consente di avviare prontamente le indagini ed evitare che altri casi simili possano coinvolgere altre persone. Da ultimo, il consiglio per figli, nipoti, parenti o anche semplicemente vicini di casa di persone anziani è quello di costruire attorno agli stessi una vigile rete sociale, ribadendo loro l'importanza di adottare la massima cautela nel contatto con gli sconosciuti.